Ieri per me ma credo anche per molti di voi è stato un po' come il giorno di Natale perché è stato il giorno del ritorno della Champions League, il più grande torneo che ci sia nel mondo, quello che porta il più alto livello calcistico ma anche le emozioni più estremizzate, le sorprese più incredibili e infatti la Champions League è tornata con due grandi partite nelle quali hanno vinto le due squadre sulla carta sfavorite perché erano impegnate due possibili candidate alla vittoria finale, i campioni in carica del Liverpool e il Paris Saint Germain delle stelle, ma entrambe si sono inchinate a un Atletico Madrid di nuovo vero Atletico Madrid e a un Borussia Dortmund che è davvero completamente il nuovo che avanza. Andiamo a parlare di queste due partite e partiamo dal confronto del Metropolitano che sembrava davvero un nuovo inizio profetico per il Liverpool tornato nel luogo dove ha vinto la Champions League nella scorsa stagione, però non è stato un bel ritorno per i Reds perché è finita 1-0 per l'Atleti ed è stata una vittoria di puro ciolismo, una vittoria che per i Colcheneiros vale esclusivamente un cuscinetto, un cuscino che poteva essere anche più sostanzioso se Morata non avesse sbucciato quel pallone che poteva valere il 2-0, vedremo quanto varrà questo cuscinetto fra le scomode tribune di Anfield perché comunque c'è da considerare il ritorno e c'è da considerarlo molto, però il segnale che ha dato e si è preso l'Atletico Madrid è un segnale di grande importanza direi soprattutto di grande valore. Era la prima volta che si sfidavano due tecnici, direi due icone della panchina come il Ciolo Simeone e Jurgen Klopp, da una parte l'allenatore del momento, il campione di tutto, il rivoluzionario che nell'era dell'estetica del possesso è entrato come un panchettone portando il suo calcio tambureggiante, pressante, esaltante, impressionante e con questo calcio ha vinto la Champions League, ha vinto il Mondiale per Club, ha vinto la Supercoppa e sta stravincendo la Premier League. Di fronte si è ritrovato un uomo che la sua grande rivoluzione l'ha fatta perché ha rimesso l'Atletico Madrid sulle mappe più importanti del calcio mondiale, forse dove non era mai stato prima a livello di status, viste anche le dinamiche del momento storico. Lo ha portato a vincere una liga contro il Barcellona di Messi e il Real di Cristiano Ronaldo, lo ha portato due volte in finale di Champions League perdendo veramente di un niente, lo ha portato a conquistare sette titoli, però un po' come Prometeo Simeone dopo aver rubato il fuoco agli dei è sembrato vittima di una maledizione perché quel che non è riuscito al ciolo è stato il ricambio, il cambio pelle, la ricostruzione del suo Atletico Madrid, quasi come se nel momento in cui l'Atletico ha provato a diventare anche bello sia diventato brutto per davvero, quantomeno spesso. Questo Simeone non è riuscito e infatti Simeone si è ritrovato a giocare questa partita nel momento di massima direi quasi contestazione dei suoi otto anni alla guida dell'Atletico. Un momento comunque di grande discussione, non si sa quale sarà il suo futuro, si sa che probabilmente, anzi direi sicuramente divorzierà dal suo fido secondo il Mono Burgos, ci sono correnti che lo vorrebbero lontano dall'Atletico Madrid, qualche volta è stato addirittura fischiato quest'anno. Bene, nella serata dai significati più profondi, più intimi per Simeone e per la sua squadra, una serata da dentro o fuori stagionale perché la Liga offre una lotta esclusivamente per riqualificarsi alla Champions e non per provare a vincere il titolo. Questa competizione internazionale ha portato un sorteggio estremamente difficile. In questa serata Simeone ha ritrovato il suo tutto, ha ritrovato il suo mondo, ha ritrovato il suo Atletico. Lo ha trovato con una vittoria per 1-0, la più ripetuta e anche la più emblematica della sua gestione. Un gol segnato sugli sviluppi di palla inattiva, un gol segnato da Saul, un canterano che lui ha portato ad essere uno dei giocatori più importanti del mondo, uno dei più forti e completi centrocampisti che ci siano in giro. Tra l'altro c'è un dato statistico estremamente pesante che riguarda Saul. Saul nella prima squadra dell'Atletico Madrid ha segnato 37 gol, tutti in marcatura singola, non ha mai segnato una doppietta, una tripletta, tutti in marcatura singola e quando Saul ha fatto gol l'Atletico Madrid non ha mai perso. 33 vittorie e 4 pareggi. Vuol dire che sono stati tutti i gol pesanti, tutti i gol portatori di punti. Però soprattutto quello che ha ritrovato Simeone e ha riproposto agli occhi di tutti noi è stata la fusione carnale con l'ambiente. Lo si è visto praticamente per tutto il secondo tempo quasi spalle al campo, arringando il suo popolo, ritrovandolo, riesaltandolo. E questo davvero ci dice che l'Atletico Madrid, magari solo per una notte, perché, lo ripeto, vedremo cosa succederà ad Anfield la stagione scorsa in segna, sia per l'Atletico Madrid, vittoria all'andata con la Juve e poi crolla lo stadium, sia per il Liverpool, sconfitta netta in Spagna e poi serata da sogno in riva al Mercy. Vedremo quello che succederà nel ritorno, però questa notte io credo che tutta la gente dell'Atletico, Simeone in primis, faranno molta fatica a dimenticarsela. Una vittoria appunto estremamente ciolista perché l'Atletico è tornato ad essere impermeabile, al Metropolitano ha subito solo due gol in gara di eliminazione diretta nella Champions League, ma soprattutto per il tipo di partita che è stata, perché il Liverpool ha avuto la gestione del match, ha fatto quasi il 73% di possesso palla, ma ha fatto zero tiri in porta. L'Atletico ha lanciato la sua rete e ha imbrigliato la miglior squadra del mondo. Non ha funzionato praticamente nulla di quello che di solito funziona a meraviglia nei Reds, a partire dal sostegno dei terzini che sono arrivati poche volte e quando sono arrivati non sono stati precisi, fino ad arrivare ad una delle prove più polverose mai viste dal supertridente di Jurgen Klopp, tant'è che Mané è uscito all'intervallo e Salah non ha concluso la partita. Sono state molto in difficoltà le due frecce laterali del Liverpool. Lo stesso Firmino non è mai entrato nel match, ben chiuso dalla solida coppia centrale dell'Atletico Madrid, dove sbetta sempre Felipe, Felipe è un difensore che sta facendo una stagione pazzesca. Ripeto, è solo la terza sconfitta stagionale per il Liverpool, direi la seconda vera, perché quella con la Stomilla in Coppa di Lega praticamente non conta, visto che Klopp aveva mandato la squadra C. Entrambe le sconfitte però sono arrivate in Champions League, una Champions League dove il Liverpool si è qualificato nel finale dell'ultima partita del girone e ha perso la prima della fase ad eliminazione diretta. Per cui, seppur in un contesto nel quale, ripeto e ribadisco ancora una volta, non possiamo dare giudizi prima del ritorno, perché non dico che sia facile ma diciamo è molto possibile che tutto venga ribaltato in Inghilterra, però un'impressione e di conseguenza una considerazione ve le voglio proporre. Il Liverpool quest'anno sta dominando la Premier League, ha vinto tutte le partite tranne una e la pareggiata, ha un vantaggio che non si riesce neanche a pronunciare sulla seconda. Con cinque vittorie sarà campione d'Inghilterra, potrebbe farlo addirittura con sette giornate d'anticipo, per cui il Liverpool nella sua comfort zone, a casa sua, è una squadra totalmente ingiocabile. Mentre quando esce da questa bolla dorata sembra spesso un'altra squadra. Vi ho detto dei numeri molto più balbettanti in Champions League, ma pensate anche al Mondiale per Club, che il Liverpool è andato a vincere però ha fatto fatica in semifinale e ha fatto ancora più fatica in finale contro il Flamengo. Questo cosa mi fa pensare? Che il Liverpool, per essere così perfetto, deve avere ovviamente il massimo dello stimolo, il massimo della concentrazione, il massimo della sicurezza, il massimo della capacità di espressione. E quest'anno tutte queste energie sono state canalizzate primariamente per la riconquista del titolo inglese dopo 30 anni di astinenza, anche perché la Champions League è arrivata l'estate scorsa. Non sono completamente uscito di testa, non vi sto dicendo che il Liverpool ha scelto la Premier e tiene da parte gli altri obiettivi. Però io credo anche inconsciamente, questa cosa si sta sentendo, perché fondamentalmente ieri sera per il Liverpool è iniziata un'altra stagione. Fin qui il Liverpool ha stravinto il suo campionato e lo festeggerà, salvo impensabili cataclesmi fra poche settimane. Ma adesso inizia la stagione della Champions League ed è una cosa completamente diversa, bisogna cambiare il chip. Non so se questa squadra abbia tutta quella fame, tutta quell'energia proprio da mettere per poter arrivare in fondo un'altra volta. Ripeto, è un'impressione. Ripeto per la quarta volta. Ne parliamo al ritorno a Dunfield di questa sfida. Nel frattempo però ci siamo presi un messaggio molto molto chiaro. Sotto sotto in casa atletico il fuoco è ancora vivo. È un messaggio del genere per il mondo atletico, per la gente dell'atletico, vale forse più di tutto il resto. Vengo all'altra partita, quella del Westvalenstadion, come si chiamava una volta e come io continuo a chiamarlo. Borussia Dortmund Paris Saint Germain. Una partita che è stata quella che io mi aspettavo fondamentalmente solo negli ultimi 20 minuti. Prima è stata una partita un po' tattica, un po' chiusa, un po' rallentata, poi è esplosa. Ed è stata una partita che ha imbrillantinato ulteriormente la stella più nuova e più impressionante che ci sia al momento nel grande calcio europeo. Mentre le tante stelle della squadra forse più piena di stelle del nostro continente, ovvero il Paris Saint Germain, hanno dimostrato ancora una volta di non essere ancora diventati costellazione e se non sei costellazione sei destinato ad essere esclusivamente un astro che può brillare tanto ma sarà sempre meno visibile rispetto a quelli che si formano in un sistema e che diventano squadra e che poi alla fine vanno a vincere. Il commento su Borussia Dortmund Paris Saint Germain non può che partire da Erling Haaland la sensazione incredibile di quest'anno. Io ricordo bene lo scorso 30 maggio, il giorno in cui stavo vedendo Norvegia-Honduras del Mondiale Under 20 e ho visto questo ragazzo segnare 9 gol in una partita. Ok, c'era contro Honduras, era una manifestazione giovanile, ma uno che segna 9 gol in una partita in cui ci sono le porte con i tre pali e le reti, dunque non degli zaini buttati in mezzo a un prato, è uno che è degno di attenzione. E da lì gliene ho data di attenzione, ho visto praticamente tutte le sue partite o quasi, diciamo, e cosa ho visto? L'ho visto segnare una barbarità di gol, una media ben superiore al gol segnato per partita, soprattutto la Champions League ha regalato una bilancia che strabilia, perché Holland è il primo teenager, ah sì perché questo ragazzo è nato nel luglio del 2000, è il primo teenager a segnare 10 gol in una competizione come la Champions. Gli ha segnati in 464 minuti di campo fra Salzburgo e Borussia Dortmund, vuol dire che di media segna due gol a partita praticamente in Champions, il torneo più difficile e più grande che ci sia. Soprattutto io confermo quello che vi ho detto un po' di tempo fa di Holland, ovvero che la mia impressione è che questo sia il centravanti che viene dal futuro, perché fonde tutto quello che abbiamo sempre visto negli attaccanti che hanno popolato la storia del calcio. È un tipo da un metro e novantaquattro che corre i 60 metri in 6 e 64, tempo da finale mondiale, oltretutto sull'erba. In più prendete due gol che ha segnato contro il Paris Saint Germain, gol rapace di destro perché ha un istinto predatorio da vero super realizzatore e gol potente da fuori con il sinistro, perché è un giocatore che ha una forza muscolare devastante ma che ha anche la capacità di muoversi, di associarsi a un sinistro estremamente vellutato. Poi, vederlo sul campo dice anche che deve migliorare tante cose, che deve essere più continuo all'interno della partita, che deve essere un po' più preciso, che deve essere magari un po' più associativo. Però quando la palla arriva a Holland magari ogni tanto sbuccia, magari ogni tanto sbaglia, magari ogni tanto non sembra totalmente coinvolto nel sistema di squadra, ma accende la partita. Ha queste accelerazioni devastanti, ha queste movenze brucianti e soprattutto ha questa incredibile capacità di captare e di prendere la porta che è solo dei più grandi. E io credo che adesso abbia a disposizione anche un insegnante di calcio molto importante come Lucien Favre. È un allenatore che può lavorare moltissimo, questo ragazzo io sono sicuro che gli orizzonti siano sconfinati per il norvegese. Anche perché la sua squadra è una squadra che secondo me sia molto migliorata durante il mercato di gennaio, perché ha fatto due acquisti che le servivano tantissimo, ovvero un centravanti come Holland e un mediano come Emre Can, che ha preso al posto di Weigl, giocatore diverso. A me Weigl è sempre piaciuto, però l'ho anche visto stopparsi in un momento della sua immersione. Mentre Emre Can, anche dal punto di vista strutturale, era il giocatore che serviva lì in mezzo al fianco di Witzel. Mi piace tantissimo la coppia d'attacco formata da Holland e Sancho. Parlo di coppia d'attacco perché è oltremodo chiaro che i due vengono messi vicini a contatto da Favre. Poi il terzo del tridente è stato Torganasar, è entrato ancora Reina, altro ragazzo che farà parlare di sé. Il Borussia Dortmund ha vinto la partita, giocando gli ultimi 20 minuti, ovvero quelli in cui si è fatta la partita. Si sono fatti anche i gol con un tridente under 20. Questo è un messaggio che deve passare. Il coraggio di puntare sui giovani, ma non tanto il coraggio di lanciare giocatori giovani in sé per sé, ma di andare a prendere quelli forti, di vedere quelli che sono davvero i grandi talenti e il Borussia Dortmund ne ha. Mi sembra che con queste operazioni il BVB sia diventata una squadra decisamente più squadra e decisamente più solida. Poi mantiene secondo me delle crepe dietro perché il portiere ogni tanto ha dei blackout e perché la retroguardia è robusta, ma non è totalmente reattiva, non è molto mobile neanche nel suo centurione Hummels. Però è una squadra che si fa piacere molto e che ripeto si è migliorata, oltretutto ha ottenuto questa vittoria contro il Paris Saint Germain senza due elementi di assoluto spicco come Brandt e Royce che mancavano, per cui anche in questo caso c'è il ritorno a Parigi. Sarà un ritorno estremamente lungo, estremamente pieno di possibilità per il Paris Saint Germain, però di possibilità ne avrà anche il Borussia Dortmund. Paris Saint Germain che deve ringraziare soprattutto il gol segnato in campo esterno, che modifica un po' il bilanciere della serata. Io credo che Tuchel, per il suo ritorno a Dortmund, posto dove è stato protagonista due anni ma dove si è lasciato malissimo praticamente con tutti, a partire dal boss della direzione sportiva Vazquez, abbia scelto di giocare senza il centravanti, di giocare con la coppia di non numeri 9 Neymar-Mbappé con Di Maria a sostegno, perché non voleva dare punti di riferimento e voleva prendere di infilata appunto un pacchetto arretrato con tre centrali, novità pensata quasi ad hoc da Favre, l'aveva proposta anche nell'ultima partita di campionato, ma io credo proprio in quest'ottica. Non voleva che ci fossero delle marcature fisse e voleva puntare sulla verticalità bruciante delle sue accelerazioni. Poi però Piszczek ha giocato una partita molto applicata su Neymar, quasi in marcatura uomo, e fondamentalmente questa cosa al Paris Saint-Germain è riuscita solo in 5 minuti all'interno della gara. Guarda caso, i 5 minuti in cui è arrivato il gol, oltre alle altre occasioni. Un gol che formalmente va a referto per un Neymar che io ho visto francamente molto appesantito, non particolarmente fino al rientro dall'infortunio, però ha fatto gol, nella sua partita non c'è stato molto altro, ma ha fatto gol e va a referto, anche se il gol è per larghissima percentuale di proprietà di Kylian Mbappé. Mbappé continua ad avere numeri fuori di testa in questa competizione e non solo, Mbappé è sicuramente l'uomo destinato a rompere il duopolio fra Messi e Cristiano Ronaldo. La partenza, il primo passo, l'accelerazione deflagrante con cui Mbappé ha fatto fuori il Borussia Dortmund sull'azione del gol, ne è l'ennesima dimostrazione. Però ripeto, al Paris Saint-Germain è riuscito praticamente solo questo, in una partita un po' sfilacciata, una partita di attenzione fondamentalmente sfilacciata non è il termine giusto, una partita di attenzione ma una partita senza bollicine, senza cose sfolgoranti. E io ho notato ancora una volta, specialmente dopo averla ripresa questa partita sull'1-1, che al Pége è mancata ancora la concentrazione, la solidità, la coralità della grande squadra nei grandi momenti. E questo è un qualcosa che l'allenatore, il gruppo, il club, tutto il mondo Pége deve trovare, altrimenti sarà un'altra stagione dalle grandissime intenzioni e dalle zero soddisfazioni, almeno in ambito internazionale. È tornata la Champions, è tornata con due super partite, con due risultati pesanti e importanti che abbiamo analizzato, ma stasera c'è un'altra tornata. Stasera tocca l'Atalanta a San Siro contro il Valencia e allora nel pomeriggio vi presenterò quello che è il Valencia che si para sulla strada della Dea e poi ci sentiremo per commentare la partita dell'Atalanta, per commentare anche il match fra Tottenham e Lipsia, per continuare a parlare del grande calcio internazionale qui sul nostro canale.